Finisce in rianimazione al Moscati di Avellino, in gravissime condizioni, Gabriella Zurlo, 29 anni, originaria di Montella, ieri sera ha impattato con la sua auto una Ford EcoSport e il muso di un tir che procedeva in direzione opposta. Lo scontro avvenuto per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto nei pressi della Galleria dell'Ofantina, al chilometro 311 nel territorio di Manocalzati. Per estrarla dall'abitacolo, i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto effettuare una serie di manovre complesse. La ragazza dipendente di una farmacia di Montemarano, estratta dal groviglio di lamiere, era cosciente e lamentava forti dolori agli arti. Poi le sue condizioni sarebbero precipitate. L'impatto tremendo ha fatto volare pezzi di camion anche sul ponte che sovrasta la zona. Il tratto di strada è rimasto chiuso per ore per dare la possibilità alla polstrada di fare i rilievi, del caso ai vigili del fuoco del comando di Avellino di liberare la carreggiata e renderla percorribile in sicurezza. Un grave episodio, l'ennesimo, che non fa che allungare purtroppo la lista di sinistri causati dall'Ofantina, soprattutto in tratti impervi che nascondono delle insidie come la scarsa visibilità.